Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video, video con le uscite del mese di febbraio e ovviamente al solito non tutti i libri che usciranno a febbraio ho fatto una cernita di quelli che a me sembrano più interessanti comunque, come sempre, se ho lasciato fuori qualcosa che a voi interessa fatemelo sapere sotto con un commentino ci stiamo avvicinando nei mesi più caldi per quanto riguarda le uscite e a febbraio ci sono diverse cose interessanti ma cominciamo subito, il 6 febbraio esce Life of Dreams di Libba Bray, secondo della serie di Divaners in questo caso avrà 768 pagine, uscirà al costo di 24 euro per la linea Oscar Fabula se avete letto il primo, insomma, arriva anche il secondo, io non l'ho letto, per fortuna è uno di quelli che non mi interessa ma sa che è una serie eseguita, quindi insomma, arriva il secondo da qualche parte qui al solito vi metto le copertine sempre il 6 febbraio esce Specchio di Mary Elizabeth Brandon per la casa editrice Vallardi che è una raccolta di racconti che hanno a che fare con i fantasmi e gli specchi di questa serie appunto della Vallardi, di racconti magabri, gotici uscirà al costo di 12,90 euro per 256 pagine ecco, questa invece è un'uscita che mi interessa tantissimo magari riesco a recuperarla e portarvela sul canale però, ovviamente, è una di quelle uscite che mi interessano maggiormente per quanto riguarda questo mese arriviamo al 20 febbraio ed esce qui un libro molto atteso io leggo dai miei appunti nel frattempo che è La Cacciatrice e il Vampiro di Shelby Maurin per la serie The Scarlet Veil il primo della serie di Scarlet Veil esce per l'Harper Collins al costo di 17,90 euro vi metto quella che sembra essere la cover non è stata annunciata dappertutto quindi potrebbe variare ma dovrebbe essere questa comunque la serie di Shelby Maurin sui vampiri la leggerò? Non lo so qua aspetto vostre recensioni perché credo che il trash si nasconda dietro l'angolo e quindi aspetto voi leggetevela, fatemi sapere perché malgrado ci sono i vampiri sono molto molto indecisa non lo so staremo a vedere arriviamo al 27 febbraio 27 febbraio altro secondo libro esce infatti Noi gli sconfitti secondo libro mi pare il primo si chiamasse Noi cattivi comunque di Amanda Fudi e DCL Herman esce per la linea Scarfantastica al costo di 24 euro con 540 pagine questa è una serie che non ho ancora letto ma che mi interessa tantissimo e visto che esce il secondo sarebbe il caso che io mi muova sarebbe il caso anche questa è una serie che ha avuto molto successo quindi so che in tanti attendete il secondo che finalmente arriva io devo dire però le castine sono proprio brutte niente questa cosa mi frena tantissimo però però la serie mi interessa tanto perché queste copertine comunque vabbè quella è quella è un mio problema io sono vittima del marketing e quindi ho bisogno di copertine che mi piacciono ma vabbè poco male sempre lo stesso giorno esce un altro seguito un altro secondo volume che è Immortality il primo era Anatomy anche questa esce per la linea Oscar fantastica avrà 420 pagine uscirà al costo di 22 euro con queste copertine molto belle ma molto inquietanti comunque se stavate aspettando il secondo arriva nel mese di febbraio sempre lo stesso giorno esce quello che secondo me perlomeno per me è il libro più atteso del mese ed esce sempre in linea Oscar volte in casa Mondatori esce Sei Gru Cremisi di Elizabeth Lim che è un retelling della favola delle 12 Cigni 12 Cigni credo sia in italiano ed avrà 480 pagine per il costo di 24 euro retelling favolistico e a me interessa tantissimo sono abbastanza sicura che lo vedrete sul canale perché lo prenderò sicuramente e con questa edizione bellissima guardate che cover ma ho sentito recensioni di tutti i tipi di questo libro ma sicuramente uno di quelli che assolutamente voglio leggere ma fatemi sapere voi cosa state aspettando di più delle uscite italiane questo è tutto per quanto riguarda i libri che escono in italiano vi ho detto ho fatto una cernita di quelli che secondo me sembravano più interessanti passiamo però alle uscite in inglese in inglese esce il 6 febbraio libro che arriverà anche in italiano Bride di Ellie Alice Wood che è la stessa autrice di Love Theorically Love Theorically vabbè quello là e in questo caso racconta di una sposa vampira e di un licantropo un licantropo un alfa licantropo avrà 410 pagine e incredibilmente malgrado ci sia di vampiri a me non interessa per niente incredibile ma vero però però arriverà in italiano se voi avete amato gli altri libri dell'autrice arriverà anche questo anche se molto diverso rispetto all'altro perché l'altro era un romance qui abbiamo molto fantasy però magari avete amato l'altro arriva anche questo il 15 febbraio invece esce The Voice of the Wretched il secondo della Corte dei Miracoli che è il secondo di una trilogia questo è arrivato il primo è arrivato anche in italiano quindi sicuramente anche questo lo vedremo io del primo vi ho fatto la video recensione ve la metto su nelle schede e già nell'info box secondo libro di questa trilogia di Cass and Grant che è Un retelling dei miserabili il secondo volume è 464 pagine vi ho detto sicuramente arriverà in italiano perché il primo è uscito almeno spero che ce lo portino anche perché è un libro che a me è piaciuto tantissimo e non vedo l'ora di leggere il secondo anche perché il retelling dei miserabili insomma non se ne trovano molti quindi non vedo l'ora di metterci le mie manine sopra ma dovrei andarmi a rileggere il primo sarebbe il caso anche perché non mi ricordo quasi niente dramma sì devo assolutamente rileggere il primo comunque staremo a vedere quando arriverà in italiano speriamo quest'anno arriviamo all'ultimo libro di questo video che è sicuramente uno di quelli che mi interessano di più che è To Cage and Gold di Elizabeth May è un libro che oltretutto erano qualche boogish box che non ho preso perché i gadget della boogish box non mi interessavano ma il libro sì ed è un libro ispirato all'impero russo e viene presentato come un adult high fantasy ed è il primo di una dilogia viene presentato perché mi interessa viene presentato come perfetto per i fan di Shadow and Bone anche se di solito quando dicono così poi si nasconde la fregatura dietro l'angolo ma è sicuramente uno di quei libri che voglio leggere quindi se riesco a recuperarlo in tempi decenti ve lo porto sul canale e il libro ha 480 pagine questo è tutto per quanto riguarda le uscite del mese di febbraio ho fatto una cernita insomma abbastanza ristretta di quelli che mi sembravano i libri più interessanti molti seguiti ma fatemi sapere qual è il libro che attendete di più o se questo mese passate perché magari i libri della TBR sono lì che vi guardano malissimo ogni volta che acquistate un nuovo libro ma niente acquistare i libri è segno di felicità quindi va bene così comunque questo è tutto ci vediamo nel prossimo video io auguro buona lettura a voi buona lettura a me e appunto ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao